un affettuoso saluto a tutte e tutti la pausa forzata da parte della piattaforma youtube del sequel con le ulteriori spiegazioni del video la truffa della paura nucleare con l'assegnazione dello strike ha confermato nuovamente quante storie farlocche il sistema di propaganda ha portato e sta tuttora portando avanti i più attenti hanno visto il sequel attraverso l'indispensabile indice alfabetico ed hanno appreso ulteriori informazioni per chi non conosce questo canale il link di indice alfabetico si trova in tutte le descrizioni di tutti i video compreso il link del secondo canale youtube e vedere gli ultimi interessanti video in pubblicati durante questa sospensione comunico che il sottoscritto a parte la pagina facebook che risolutamente non segue non usa nessun social pertanto se qualcuno o qualcuna crede di aver comunicato con me attraverso questi social ha semplicemente fornito dati ad altre persone c'è la pagina web www.tinelli.eu usatela grazie